Anticipazioni, Beautiful, 3 a 7 aprile, Maya e Zende si baciano, Eric chiede il divorzio a Queen Un inaspettato colpo di scena attende gli spettatori di, Beautiful Maya bacerà a Zende, marito della sorella Nicole, intanto, Eric ha preso la sua decisione sul rapporto con Queen Beautiful, si prende una breve pausa per il periodo pasquale Non andrà in onda lunedì 2 aprile Le anticipazioni degli episodi a cui gli spettatori potranno assistere da martedì 3 aprile, rivelano un inaspettato colpo di scena Maya bacerà a Zende, il marito della sorella Nicole Eric, invece, chiederà il divorzio a Queen L'appuntamento è alle ore 13.40 su Canale 5 Anticipazioni, Beautiful, i martedì 3 aprile 2018 i Forrester e gli spettatori travolano a Monte Carlo per sfidarsi in occasione del summit della Spencer A bordo dello stesso jet privato, continuano a punzecchiarsi per l'intera durata del viaggio Hanno tutti l'aria di essere convinti di vincere e non sembrano affatto intimoriti dagli avversari Queen è disperata, vuole riprendersi Eric ma non ha idea di dove si trovi Ridge non ha alcuna intenzione di rivelarglielo Anticipazioni, Beautiful, il mercoledì 4 aprile 2018 Thomas è preoccupato Bill è riuscito a convincerlo del fatto che Caroline stia per morire a causa di una rara malattia autoimmune Spencer, inoltre, continua a tormentarlo ricordandogli che ha dei doveri verso suo figlio A inizio la sfilata di moda, Bill nota che la spettra sta vincendo Così, per non dare alcun merito ai suoi nemici, afferma che in fondo ciò che conta è che le donazioni dei presenti salvino dei bambini sfortunati e che non è importante proclamare un vincitore Katie e Wyatt dietro le quinte si baciano Anticipazioni, Beautiful, il giovedì 5 aprile 2018 dopo il successo della sfilata, Zende vorrebbe andare in discoteca a festeggiare il suo debutto come stilista Nicole però è stanca e preferisce tornare in albergo Wyatt e Katie si baciano una seconda volta Bill chiama Caroline e la invita a non compromettere il suo piano Deve fingere di essere in fin di vita La giovane è contrariata e piena di sensi di colpa ma pur di riavere Thomas al suo fianco, decide di mentire Poco dopo riceve la telefonata di Thomas che la informa che sta tornando a New York e ha intenzione di occuparsi di lei e del suo bambino Anticipazioni, Beautiful, il venerdì 6 aprile 2018 a Monte Carlo sono in corso i festeggiamenti per il summit della Spencer Zende seppure senza Nicole che ha deciso di non seguirlo festeggia il suo debutto come stilista Katie nota troppa complicità tra Zende e Maya Non è contenta di ciò a cui sta assistendo Teme che i due possano lasciarsi andare compromettendo i rispettivi matrimoni Anticipazioni, Beautiful, il sabato 7 aprile 2018 Zende e Maya sono provati Uno sconosciuto, infatti, si è scagliato contro la donna Maya prega il cognato di non dire niente a Nicole e Rick per non farli preoccupare Katie, che tiene d'occhio i due, li vede scambiarsi un bacio Charlie implora Sheila di non dire a nessuno che è stato lui a farle sapere del flirt tra Quinn e Ridge Eric, dopo aver riflettuto, prende una importante decisione Raggiunge Quinn per chiederle il divorzio Grazie per la visione